Il fatto che loro possano venire qua a parlare e fare per me significa tanto soprattutto perché io in casa promulgo Sento il mio telefono che vibra Oddio è lui! È tornato! È tornato! È tornato questo qua che è convinto che io gli abbia tolto i poteri di amministratore di una fanpage del Milan Cioè che io sono il proprietario di una fanpage del Milan e io l'ho bloccato due volte da Telegram però trova sempre il modo di contattarmi Non riesco a capire come Ciao Gigio! È perché pensa che io mi chiami Gigio Probabilmente c'è qualcuno che lo ha trollato e gli ha dato il mio contatto Telegram Ciao Gigio mettimi amministratore subito avevi detto mi mettevi questa mattina figlio di tu Io ovviamente non c'entro niente Mi hanno mandato dei vocali vediamo se si possono sentire Ragazzi io non ho parole Allora, allora figlio di tu Allora figlio di tu Allora figlio di tu Metti amministratore rincoglionito Mi metti amministratore per favore Metti amministratore rincoglionito Sono entrato rincoglionito Bastardo troiano ti muovi o no Allora foglio di tu Mi ha chiamato foglio di tu Pro-pronto? Oh yeah! Tustarella Videochiamata, fatti vedere! Ascoltami, mi senti? Va bene, se non vuoi parlare ti mando un vocale Allora, ciao Guido Io non sono nemmeno un milanista Mi hai contattato più e più volte Dandomi del figlio di tu Perché non ti aggiungeva a questa cosa? Ma io non ho idea di cosa stai parlando Ti hanno preso in giro Oppure sei tu che stai prendendo in giro me? Io sono anche interista Pensa te Non sono a capo di nessuna pagina del Milan A cui poterti dare l'amministratore Mi stai insultando Mi stai rovinando di insulti Mi hai dato del foglio di tu Adesso Ti prego di calmarti Non c'entro niente C***o, cambi sempre nome Gigio Sono Mario Sturniolo Non sono Gigio Ti hanno preso in giro Guido Il mio nome non è Gigio Tonio, grazie per il quattordicesimo mese C***o, sei che sei proprio un foglio a quattro di t***o Gigio non prendere in giro Ti prego Non mi risponde più Ammetti il mistratore Mi ricoglionito Sono entrato Sono l'ora Allora chiedi p***o Allora chiedi p***o Sei Gigio Me l'hanno detto Troiano Sono costretto a ribloccarti Vedi che se continui così Ti denuncio alle autorità Troiano Ma che modo di insultarmi è? Mamma mia che mondo stranissimo Non c'è pace Per niente Ma io non ho parole Oddio, è sta notifica? Oggetto rilevato in movimento con te Baccini Troiani Nick, grazie per il terzo mese Ma che è sta notifica? Ho rilevato delle Airpods Nelle vicinanze Ma io non ho alcune Airpods Scappa Gigio Non mi chiamo Gigio Apri la porta Apri Apri Grazie a tutti Grazie a tutti